guardando indifferita buongiorno o buonasera a tutti dipende ciao ciao di ferita come stai tante persone mi guardano di ferita e quindi è giusto salutarli lo sapete finché non arriva qualcuno e io inizio a blatterare effettivamente dal vivo per qualcuno mi rivolgo a voi io sono riduce da un cambio temperatura molto molto repentina e sono sono basita sono basita silvana buonasera benvenuta le creazioni di manu buonasera buonasera a voi dicevo sono un po scioccata per via del tempo valentina buonasera marisa paula ciao alle tutto ok mi sono persa quale live qualche live no non ti preoccupare tra l'altro è un sacco di tempo che non che non facciamo live isa buonasera benvenuti a tutti grazie per essere qui manu ciao che chiede a tutti come state e stiamo passando da un più che primavera ci sono un po di vibes autunnali perché veramente ciao elena ciao giulia passiamo dal sotto zero al mattino ci possiamo passare da meno due meno uno al mattino ciao marilla fino ai 20 gradi e oltre 10 minuti prima che eleonora dovesse uscire per andare a scuola ha fatto una coazione ma è dal nulla improvviso una roba allucinante che ho detto e mo come la porto ciao giulia ho detto e mo come la porto a scuola perché era veramente una roba cioè è arrivata l'acqua fino calcolate che abbiamo il portico la doppia porta a vetri è arrivata l'acqua fino alla porta ma una roba allucinante avevamo dimenticato il garage aperto e quindi ho mezzo garage praticamente allagato infatti l'ho lasciato ho continuato a lasciarlo aperto perché magari un pochino si asciuga elena dice non dire autunno che mi viene da piangere lontanissimo questo è esattamente il mio pensiero quando accompagnando ele a scuola avevo questa addosso questa felpina di di cotone di spugna di cotone mi sono fatto una sudata rientrando la macchina cioè facendo boh non lo so cento passi forse l'aria fuori è il famoso acquario irrespirabile con un tasso di umidità allucinante e ho detto no guarda se c'è una cosa che non mi mancava per niente non mi mancherà mai è il caldo umido in particolare è così settimana prossima sarà anche peggio tra l'altro è da ieri io ho passato la notte praticamente in bianco per via di vari fattori tra cui un vento allucinante ve l'ho detto più volte questa è zona particolarmente ventosa e la primavera è il periodo di possibili tornado quindi insomma vabbè e io che ancora metto fiorellini fuori e ho passato la notte a sentire al piano di sopra si sente molto di più il vento rispetto a quanto effettivamente sia ma in alcuni momenti era veramente forte quindi sono scesa anche nel mezzo della notte giù ero preoccupata per le cose che c'erano fuori quindi o ulteriormente avevo già cercato un po di spostare non so i basiti dei fiori le decorazioni di togliere tutto però avevo questo pensiero che mi continuava a girare in testa quindi sono scesa anche alle quattro e mezza del mattino a controllare tutto a posto però c'è veramente un vento pazzesco e ovviamente quindi ci sono questi cumulonembi queste nuvole che vanno e vengono veramente vi giuro allucinante portando il loro a scuola ha smesso di piovere l'ho lasciato quindi ho parcheggiato ho fatto quei famosi cento passi l'ho lasciato davanti all'entrata e è spuntato ma di sembrava un film è spuntato all'improvviso un sole bollente ma così ha fatto che cavolo sta succedendo estate subito estate vabbè niente così vediamo se ho qualcun altro da salutare durante il giorno 24 gradi ci dice parole a fumetti benvenuta la nostra prima live live ovviamente sarà non posso seguire ma ti guardo mattina un bacio sarà grazie per averci quanto meno salutato grazie mille francesca benvenuta lady book lover s siamo sempre al punto solito vero ma il rifiuto d'ora in poi non voglio più sentire parlare di un nome vi parli vi saluto solo col vostro nick basta basta rinuncio rinuncio non tra francesca e leonore cristina io ho una confusione tale che no basta se volete che vi chiami per nome cambiatevi il nick io rinuncio non ne sono in grado 8 sotto un tetto ciao anche mano dice che il tempo non è dei migliori neanche lì e si tornato fa paura fa paura e spero di non dover mai sperimentare a parte il la sirena che qui ogni ogni mercoledì alle 11 in questa zona suona come prova come esercitazione diciamo quindi per abituarti al rumore però devo dire la verità se sei dentro magari hai la tv acceso la musica accesa non è che si senta poi tanto io mi auguro che in caso di emergenza reale la suonino più a lungo è più forte penso spero ma comunque va beh proprio questa notte dice silvana ho sognato un tornado silvano e peo tutti dentro al riparo io fuori a cercare il mio gatto ecco qua come me con le decorazioni ciao francesca benvenuta alice ciao cristina lo vedi e così raga non va non va io c'è sono proprio io che non ce la faccio laura g miss purple che un'altra che insieme a lady book lover allora lei è leonora giusto probabilmente mi si impiccia la testa non fa niente vi chiamerò col vostro nick non offendetevi ciao sonia ci rivediamo domani su questi schermi o grazie ti piacciono i miei cuscini prima degli e insomma ci abbiamo fatta fare questa live dopo un sacco di tempo ho visto che mi avete lasciato qualche messaggio e in realtà erano praticamente tutti uguali ciao veronica benvenuta volete sapere della pasqua americana di cui io non è che sappia nulla ma vi posso accennare quelle tre cose che ho capito allora innanzitutto non ci sono vacanze di pasqua l'unica cosa che che però a noi voglio dire non ci stupisce affatto questa cosa il venerdì qui lo chiamano aspettando chiamano good friday vero perché ho fatto una ricerca poi vi dico perché ho fatto questa ricerca mi pare si chiama il good friday il nostro venerdì santo e vacanza ma questa cosa non ci stupisce granché visto che lo sapete che qui il venerdì o è vacanza piena oppure è un'uscita anticipata oggi è venerdì ed è l'unico venerdì al mese ogni tanto capita una volta al mese che sia giornata full e quindi ce la prendiamo venerdì 7 aprile che appunto il venerdì santo sarà vacanza quindi per pasqua al massimo concedono un giorno di vacanza ed è così quindi non esiste pasquetta non ci sono vacanze di pasqua anche perché chi una settimana prima che una settimana dopo chi due settimane dopo a seconda degli stati ci sono le vacanze di primavera e quindi quelle sono le vacanze insomma di questo periodo poi un'altra cosa che ho capito ovviamente la pasqua per sé la festeggia semplicemente una una festa collegata alla religione quindi chiaramente se è presente come cosa come concetto nella tua religione viene festeggiata altrimenti ecco i miei sponsor che erano a cena qui la scorsa domenica mi hanno detto che loro come tradizione non so sinceramente che se siano religiosi a che religione con quale regione siano stati formati non ho idea però è un'occasione naturalmente per incontrarsi con la famiglia quindi come facciamo noi per cui fare una giornata con la famiglia un pranzo con immagino ci siano 12 mila tradizioni diverse come da noi piatti sicuramente meno non c'è la varietà che c'è in italia come piatti suppongo ma fanno non so degli arrosti particolari delle carni particolari mi ha parlato di un po di tagli di carne particolari con i contorni che sono sempre di solito un tipo di patata che sia normale che sia dolce le verdure al massimo c'è un dolce specifico ma nulla di sinceramente nulla che io non trovi ad ogni cena ciò a me mi sembra sempre che immagino la stessa roba lo so che non è così lo so che una mia falsata percezione però da quello che mi raccontava ecco non mi è sembrato nulla di particolarmente differente o particolarmente vario e poi aspettate che recuperiamo qualche messaggio tutti grazie marisa per i decori ciao silvia benvenuta eleonora miss purple dice mi è piaciuto troppo il video della partita nba è stato bellissimo non me l'aspettavo proprio lo stadio veramente meraviglioso ciao desiree stiamo parlando ho ricevuto un po di domani mi sto tormentando una pellicina del dito mi sta uccidendo colpa mia ovviamente mi hanno mi avete fatto lasciato insomma un po di domande relative alla pasqua come si festeggia qui vacanze non vacanze giorni di festa a scuola che cosa si fa in particolare ciao santa nuvole bianche ciao per la prima volta che sta in live insieme a noi una cosa che sicuramente accomuna tutti è la caccia alle uova e quindi che tu stia in un appartamento che tantissimi lo sapete hanno una casa indipendente o comunque la possibilità di avere un giardino di organizzare addirittura queste caccia alle uova con questa caccia alle uova con vicini di casa quindi anche di quartiere una cosa molto grande i bambini quando si svegliano la mattina di pasqua trovano un cestino vuoto per diciamo che che poi esattamente quello che faccio io da anni con i con i con i bimbi a casa solo che qui ecco non hanno il come dire non c'è quella usanza così forte come da noi dell'uovo di pasqua dell'uovo di cioccolato cioè non è una cosa strettamente legata all'uovo di cioccolato come da noi peraltro le uova con le sorprese negli stati uniti sono vietate non esistono le uova di pasqua ho visto che c'era qualcosa di simile ma la forma era sembrava un nuovo seduto più che altro e quindi era del cioccolato con la forma ecco con la stessa carta ma è stato un caso può capitare che qualche supermercato porti qualche uovo di pasqua italiano quindi dei nostri marchi ma è una cosa che tu devi andare a cercare mesi prima le puoi trovare online quindi le trova le uova di pasqua italiane le puoi trovare online eventualmente ma a dei prezzi che sinceramente ti fanno venire la voglia di passo non importa cioè per una come me che deve stare qui due anni posso tranquillamente rinunciare all'uovo di pasqua e se ne riparlerà la caccia alle uova quindi non è legata strettamente all'uovo di cioccolato ma si nascondono ma il coniglio di pasqua nasconde ovunque voi immaginate di avere un giardino un giardino ma eventualmente anche dentro casa insomma si nascondono le uova generalmente si tratta di ovetti di plastica che si aprono e dentro quindi praticamente il coniglio di pasqua fa quello che è vietato ha si sentito il vento accidenti fa quello che è vietato cioè vietato comprare l'ovetto di plastica l'ovetto l'uovo di cioccolato grande con dentro l'ovetto di plastica con la sorpresa ed è il coniglio di pasqua invece che le fa allora vendono nei supermercati vendono è una cosa che voglio organizzare però è in piccolo però una cosa carina hanno giuro non pensavo che si potesse percepire in dall'audio vuol dire che sto telefono vendono queste bustone di uova di plastica di ovetti di plastica e dentro a seconda dell'usanza a seconda dell'età dei bambini dei ragazzini non lo so si riempiono o le puoi anche lasciare vuote non è un problema le puoi lasciare vuote e creare un premio finale le puoi riempire con dei piccoli caramelline cioccolatini soldini quello che è molti vendono anche dei bustoni grandi di minuscole sorpresine tipo come quelle che ho preso io per il compleanno di eleonora cioè la gommina l'anellino milioni di cose che chiaramente a seconda di quante tu ne debba prendere per quanti bambini le debba organizzare può diventare anche abbastanza dispendiosa oppure ripeto puoi organizzarla con le uova vuote e magari pensare ad un premio finale il premio finale qui molto utilizzato è un cestino come i nostri cestini regalo di non so di natale avete presente il classico cestino con dentro i prodotti mangerecci come si chiamano i cestini dono c'è qualche termine che mi sfugge comunque vendono questi cestini li puoi ovviamente preparare tu ma te li vendono anche pronti con tutta una serie di doni un pupazzone il pupazzone le cose per colorare giocattolini cioccolato bla 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 quindi può essere anche quello un ma la strena non è solo moneta cash domanda e poi ovviamente fare questa caccia sia con gli indizi i cesti natalizi esatto i cesti ci sono effetti natalizi ma che poi lo puoi regalare sempre quindi questi cesti dono così e qui ci sono quelli pasquali per i nani puoi organizzare la caccia con o senza indizi a seconda di come ti va e puoi anche magari se hai bambini di età molto diverse con ovviamente delle capacità di andare a cercare le uova con delle velocità molto diverse puoi anche settare un numero di uova massimo da raggiungere in modo che per esempio hai nascosto 50 uova ai cinque bambini setti che ciascuno ne possa trovare dieci quando ha trovato quando è arrivato a trovarne dieci può non so aprirsele oppure raggiungere il premio lo step successivo quel che l'è oppure chi vince vince cioè questo è diciamo che è una cosa molto intelligente per evitare che i bambini poi si mangino la faccia vicenda litighino e tutto si trasformi in una tragedia e io penso di vi ripeto penso di organizzarla vediamo in questo momento sono concentrata sull'organizzazione del mio compleanno la settimana prossima e quindi sinceramente a pasqua non ci sto pensando anche perché non vado da mia suocera a mangiare le cose buone non non ho io la mia famiglia non ho particolare boh dovrei qui mi viene più in salita soprattutto per i bambini non per me ma dico per i bambini dovrei iniziare a creare delle tradizioni anche diciamo lontane magari da compleanni e natale ma anche per altri tipi questi altri tipi di di festività ecco non ho granché non non ci tengo tanto ecco però voglio che loro abbiano dei bei ricordi e quindi così fanno la mappa per intracciare le uova quelli intelligenti sì tra l'altro c'è anche l'usanza presa soprattutto immagino dai paesi dell'est di fare le uova sode e poi di colorarle ogni paese poi porta la sua tradizione c'è chi le fa c'è chi le colora sode sbucciate c'è chi ne colora il guscio si può fare veramente qualsiasi cosa vediamo recupero marisa farà la pastiera per pasqua anche se non è napoletana ma la adora e quindi perfetto le uova desidera abbiamo detto no il vento il vento continuo ragazzi sì dolci pasquali non che io sappia allora è sicuramente ci sono delle tradizioni poi gli stati uniti sono così immensi che è chiaro che ovunque vada ci sia qualche tradizione particolare nulla che io riguardo i dolci in particolare nulla che io sappia ancora penso che probabilmente mi perdi io la quella lezione lì me la perderò no no ci dovrei essere in realtà giovedì prima di pasqua quindi può essere che la mia insegnante magari ne parli è capitato anche come per il ringraziamento che ci abbia anche donato delle ricette particolari quindi può darsi magari magari lo chiederò e magari ve lo farò ve lo farò sapere insomma quindi cesti natalizi francesca farà la torta pasqualina che cosa buona santa dice io con mia mamma da piccolo sempre dipinto le uova sode ancora oggi lo facciamo carino esatto e si nuvole bianche e lo faccio per loro perché io una cosa che non ho mai avuto ecco a differenza della famiglia di mio marito che pugliesi che hanno ma non perché siano pugliesi è ma perché una questione di di famiglia di opportunità di anche di quelle le grandi famiglie unite che fanno che ci tengono no e generalmente sono sempre le donne a portare avanti queste queste cose almeno in quel caso si sono per le donne che vanno fanno organizzano e e loro hanno una forte tradizione ma hanno c'è proprio dei cibi specifici per ricorrenza il santo del momento la festa del momento e non che in sardegna non ce le abbiamo assolutamente ma parlo proprio di una questione della mia famiglia posto poi con tutto quello che è successo per quanto mia mamma sia stata male che io ero ancora piccola quindi non ho avuto anche modo di questi ricordi mio padre non è mai stato in grado di mantenere tradizioni o di creare nuove tradizioni quindi io ho perso tutto questo ed ecco perché mi trovo sicuramente più in difficoltà a partire un po da zero adesso però allo stesso tempo sapendo quanto dispiace perdersi una cosa del genere da grande ecco non avere tutti quei ricordi voglio crearli per i bambini magari sarà una cosa nostra non sarà una cosa sarà un mix poi perché ovviamente quando hai genitori che vengono da tradizioni diverse o culture diverse addirittura lingue diverse scusate nazioni diverse e chiaramente tu acchiappi un mix di tutta questa roba e quindi diventa ancora più interessante e quindi insomma vorrei farlo per quello silvia chiede se le sapresti fare le uova di cioccolata non ci ho mai provato quindi non so a vederlo non sembra difficile tranne temperare il cioccolato ma lì ci vuole vabbè no non ne ho mai fatte ma sinceramente non non mi interessa manco farle ecco ti dico la verità desiretto non fai nessun dolce italiano pasquale no perché io a parte il tiramisù con i dolci sono proprio negata e ti ripeto non ho neanche questa cosa una se c'è una cosa se mi doveste chiedere guarda c'è una cosa che vorresti fare una sola sola sarebbe l'agnello sardo non arrosto ma l'agnello fatto a spezzatino con il limone e i carciofi quello sì l'agnello a limone in particolare scusatemi con uova e limone quello sì si cuoce l'agnello poi si crea una cremina con l'uovo crudo e il limone che è una roba buonissima però vabbè peccato non ho connessione mi segnalano oh vabbè Eleonora ci rivediamo poi domani mattina mi dispiace non avrei fatto i biscotti di Natale e di Allo ah i veri biscotti beh Silvia quando uno è attenta è attenta hai ragione la pasta frolla mi esce molto molto bene sono molto fiera e ti dirò di più faccio i biscotti anche per Pasqua a questo punto anche perché mi sono portata le formine me ne hai ricordato adesso in fricassia in fricassia sì giusto me ne hai ricordato adesso però prima fare i biscotti per il mio compleanno quindi magari ci butto dentro anche vabbè posso fare un po' e un po' che buono l'agnello in fricassia vabbè niente quindi se c'è una cosa che mi ricordi da Pasqua a parte la colomba la colomba di Pula con le mandorle ma che è una cosa che io non ho mai amato particolarmente forse adesso da adulta un po' di più ma le pardule vabbè le pardule sono proprio Pasqua è un dolce che trovi sempre comunque è una cosa Pasquale vero c'è proprio l'ignoranza che avanza buone sì me le mangerei una pardula fatta bene però cioè che sia fatta bene fatta bene esiste la ricetta dalla frolla per i biscotti nel canale sì allora l'ultima che vedi l'ho fatta diverse volte allora l'ho fatta la prima volta era il Natale erano i video natalizi del 2021 se non ricordo o 2022 no 2022 era questo Natale 2021 oppure se vai indietro a questo Halloween quindi allo scorso Halloween dovremmo sì perché li ho fatti con mi ricordo che c'era Eleonora con la tosse e li abbiamo fatti insieme sì quindi ci sono forse se digiti i biscotti di Halloween li trovi presumo ciao Simona benvenuta le pardule va bene che buone e cosa stavamo dicendo quindi con la caccia alle uova insomma abbiamo concluso con le poche cose ecco relative alla Pasqua che io conosca penso di avervi raccontato tutto mi avete chiesto del compleanno a me arriva il pacco dalla Sardegna da parte dei suoceri per Pasqua e Natale oh che meraviglia in effetti i biscotti per il compleanno di Ale sono venuti bene erano molto carini ed erano buonissimi ma quelli a prescindere dalla forma o dal colore che fai è veramente una frolla molto buona eccoci qua Ale non so dice nuvole bianche io li leggo li leggo a voce alta perché poi magari c'è chi ascolta soltanto quindi per evitare che io risponda domande invisibili o non udibili da chi mi sta ascoltando ovviamente io li leggo per quello i messaggi Ale non so se lo hai letto all'inizio della live ci parlerai dopo del quilting vale la pena investire neuroni e diottrie e anche Silvana dice ma vogliamo parlare del tuo lavoro di quilting portato a termine ma quanto sei stata brava e adesso ve lo faccio vedere eccolo qua il mio tesoro eccolo qua questo è il mio runner ora ve lo sono ovviamente tre blocchi tutti uguali adesso ve ne avvicino uno e ve lo faccio vedere non so aspettate fatemi alzare perché ecco altrimenti non so manco cosa vi sto facendo vedere allora i tessuti che ho scelto ce li ricordiamo ho scelto i gabbiani poi c'è lo sfondo qui con questi puntini sempre un po' grigio blu questo qua sono tutti colori che fanno un po' mix and match ma devono essere questo qua che è il tessuto più complicato perché poi vedete qui arrivano le cuciture bianche che non vi dico e soprattutto qui ora io non so se questa sia la stella delle peggiore vabbè sono tutte un po' così io continuo a chiamarla stella ma in realtà è un sole perché la mia insegnante ha creato questo 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 stencil per me solo che c'era un cerchio all'interno che io posso sempre rifare ma siccome devo usare un filo bianco perché ho usato il filo bianco ho usato un filo bianco perché la regola è usare un filo che si perda nel backing oh non l'avevo mai visto da lontano guarda là come si vede si vedono le farfalle e si vede il quadrato in mezzo e le onde qua e non non così si nota non l'avevo mai notato quindi la regola è usa un filo che si perda qua dietro il problema è che io avendo usato tessuti con questo generalmente c'è sempre un colore che dà il contrasto e purtroppo le cuciture bianche qui o sei brava e le fai perfette oppure si notano troppo le mie si notano troppo e sono molto lontane dall'essere perfette ma signori io non so manco attaccare un bottone cioè io ho un orgoglio per questo progetto che dici ma come ho fatto veramente come ho fatto in due mesi non lavorando tutti i giorni per due mesi poi io diciamo che ho fatto un po' delle full immersion che adesso un giorno mi sono messa a cucire per 12 ore 12 ore voi potete capire con i bambini in casa e il marito e fai poi la pipì e la fame e l'ora di pranzo quindi cioè io ho fatto un pochino delle full immersion quindi cosa vi posso dire se dovessi cucire un pochino tutti i giorni probabilmente in tre settimane lo finiresti dico due mesi perché sono passati due mesi poi ovviamente ogni volta aspettavamo la lezione successiva per avere le indicazioni per la volta dopo eccetera eccetera però devo dire che sono incredibilmente orgogliosa e qui come vi ho detto prima qua c'erano ovviamente tutto ciò che io ho fatto che ho quiltato a mano quindi che ho trapuntato ecco perché vedete questo effetto così era tutto disegnato con le penne i pennarelli termici e adesso mi fa piacere che le farfalle che sono state abbastanza una palla da fare mai forse la cosa peggiore è stata la farfalla sì anche questa è stata una bella rottura si intravedono sono molto contenta insomma ne sono felice sono felice orgogliosa del mio piccolo bimbo nuovo blu l'effetto di un aspettate che mi risiedo l'effetto di un quilt è come dire sempre molto molto country io non ho uno stile particolarmente mi direte vabbè ma c'è la bicicletta c'è il lo so però diciamo che in generale io non ho questo stile del vecchio west ecco ed ecco perché ho cercato rispetto a la maggior parte dei tessuti che tu trovi in questi negozi sono tutti molto country molto dal sapore un po' la casa nella prateria colori che non mi appartengono oppure fantasie magari trovi il colore ma la fantasia non ti appartiene quindi è stato un po' per me un pochino più difficile trovare colori poi veramente ci sono negozi che ne hanno così tanti che puoi davvero trovare di tutto adesso sto pensando ora lascio passare il mio compleanno poi ne riparliamo anche perché devo andare a fare gli acquisti per sto pensando sicuramente al prossimo progetto allora una cosa che voglio fare sicuramente è farne un altro sto pensando di farlo non a tre blocchi ma a cinque blocchi veramente lungo ma penso ne farò un altro uguale a questo al massimo cambiare il questo disegno qua questo dovrebbe essere più semplice vi ricordate si parte da unire a questi due poi si uniscono questi due a questo qui e poi si uniscono così per lungo quindi si unisce questo quadrato questo che è diventato un quadrato si unisce a questo questo qua si unisce a questi due questi qua si uniscono a questi due e poi si uniscono a loro volta per creare il quadrato magari potrei cambiare ecco provare a cambiare il pattern interno però vediamo vi voglio fare dicevo sicuramente uno natalizio mi piacerebbe farne uno anche autunnale per il resto questo che secondo la mia insegnante ha un tema marino io non l'ho mai scelto come tale io ne volevo uno volevo iniziare con uno perché ho detto magari ne faccio uno nella mia vita e mai più ne volevo uno che potessi usare un po' in tutte le stagioni che avesse dei colori per me abbastanza neutri ecco non posso mettere qua dentro con questo arredamento che ho ho la poltrona azzurra la poltrona gialla i mobili verdi i mobili marroni voi mi direte si è fatto questa cosa sul blu però c'è la poltrona un pochino e devo pensare a qualcosa da utilizzare anche con i miei mobili italiani che però sono tutti neutri però non mi metto a dare delle macchie di non so lilla che non è per me arancione pesante è chiaro che volendo fare qualcosa di autunnale secondo me da qualche parte l'arancione non lo devo infilare ma devo ancora trovare il mix di tessuti e colori perché io lo vorrei fare più sul verde avete presente quel bel verde autunnale quello che piace a me vedremo vi terrò aggiornate fatemi leggere un pochino mentre quello natalizio io in realtà so già come farlo spero di trovare per i tessuti perché mi sono innamorata verde bianco e rosso mi sono innamorata di quello che ha fatto la mia amica Adela della Repubblica Ceca e vorrei tanto trovare i tessuti così perché era una combinazione di colori poi l'ha fatto veramente bene era troppo carino fatemi recuperare i messaggi grazie per tutti i complimenti grazie mille sono molto orgogliosa è il più rispetto a quello che hanno fatto le mie colleghe è quello più scalcagnato è quello più disordinato ma sempre la ragazza della Repubblica Ceca mi ha detto se dovessimo avere davanti senza sapere chi li ha fatti tutti i nostri progetti secondo me riusciremo a capire chi li ha fatti solo guardandoli e vedendo come sono stati fatti che tipologia di tessuti e colori siano stati scelti io l'ho guardata e gli ho detto ah grazie allora io sono cretina sempre ho questo senso dell'umorismo così autononia quello che volete ci provo anche a esprimerlo in lingua inglese cosa che vi assicuro non sempre è facile e non sempre viene capito dall'altra parte però una volta che hanno capito questo cretina allora un pochino ci troviamo ed effettivamente ci ho pensato ed è vero e allora il fatto che la mia insegnante dica che questo progetto sia molto marino probabilmente mi rispecchia da donna di mare non so come dirvi e lei ha detto ha detto una cosa molto intelligente perché io in 30 anni di insegnamento anche di questo quilting ho visto passare decine e decine di ragazze di donne qui da questo tavolo da gente che proveniva da tutto il mondo e ti posso dire che ognuno effettivamente a seconda di dove vieni hai un modo particolare di lavorare di cucire anche se non l'hai mai fatto di scegliere i colori di scegliere determinate come dire di accostare determinate tipologie di fantasie che effettivamente si vede che tu vieni da lì ecco questo quilt che è tutto incasinato impreciso se vedeste gli altri capireste soprattutto quello della ragazza della sudcorea che è di una perfezione imbarazzante capireste che hanno effettivamente ragione continuo scusate ne valsa veramente la pena per chi dice io non ce l'avrei mai fatta è questo quello che ho detto io ma ad ogni passaggio nuovo a me venivano le crisi di un po' d'ansia da prestazione e già ero convinta di non farcela vi dico solo che mercoledì sono andata all'ultima lezione perché dovevamo fare il il oddio il binding cioè il il bordo quindi mi ha insegnato come farlo vi assicuro che io al terzo punto perché devi fare dei punti ai sia qui il doppio tessuto da piegare quindi devi creare l'angolo e poi devi fare dei punti interni in modo che non si veda io al terzo punto le ho chiesto di farlo per favore di farlo a macchina e lei mi ha detto di no e io l'ho odiata le ho detto che era una bruttissima insegnante le ho detto davvero e invece poi la ringrazio perché io ho capito che ad ogni passaggio voi dovete capire che ad ogni passaggio di questo lavoro tu devi cambiare il modo di cucire avere un ritmo diverso delle tecniche diverse ogni volta che cercava quindi di che si arrivava al passo successivo e che io dovevo imparare qualcosa di nuovo il mio cervello andava in in pappa ero convinta di non aver capito non farcele eccetera quando arrivo a casa poi infatti ho iniziato a fare i video per quello cioè a filmare quando spiegava perché io se no il mio cervello non è in grado di memorizzare immediatamente e quindi col supporto video poi a casa con tranquillità senza dover parlare in inglese con nessuno cercare di capire cosa stanno dicendo tutti quanti eccetera eccetera io a casa con calma mi prendo il mio tempo il mio spazio e senza occhi di nessuno addosso senza parlare con nessuno riesco a portare avanti il mio lavoro devo dire però la ringrazio perché effettivamente è stato semplice solo che c'è per me sempre quello scoglio da superare di dover immagazzinare capire tradurre immagazzinare fare mio la tecnica ecco e vabbè aspettate 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 desiria dice saresti capace di rifarlo da sola questa è un'altra domanda che mi sto facendo da ieri che l'ho finito ma anche da prima perché voglio e voglio proprio farne un altro a breve quindi entro l'estate voglio che quello di natale sia pronto per esempio a meno che trovi qualcosa anche per l'autunno e quindi compro tutto insieme faccio prima quello dell'autunno proprio per non perdere la manualità ma non solo ho deciso che farò un video lungo tutto il prossimo progetto farò un video delle vadi e vadi step perché diverse persone anche amiche mie mi hanno chiesto di poter imparare a farlo ovviamente con la macchina da cucire in pochi giorni avete finito però questa è una scelta io non ho la macchina da cucire non ce l'ho neanche in Italia non mi interessa averla quindi lo faccio a mano e ci metterò molto di più però voglio firmare step dopo step le cose principali per assemblare una cosa del genere in modo da averlo anche nella mia memoria personale quindi a questo punto ne approfitto e ci faccio proprio un video perché magari può servire a qualcuno grazie grazie a tutti e quando il marito versò il caffè sul runner no guarda non dirlo neanche per scherzo pensate che da ieri ho iniziato a metterlo sul coffee table sul tavolino qua davanti e mio marito mi fa ma sei proprio sicura di volerlo però ragazzi allora bisogna anche contare è cotone 100% quindi si può lavare la mia insegnante ha giurato che ormai con tutti questi punti puoi lavarlo in lavatrice metterlo in asciugatrice o quello che è non gli succede niente certo bisognerebbe contare sulla propria fiducia personale sui punti che hai fatto e io lì un pochino barcollo perché devo dire la verità non tutti i punti partiti da qua sono arrivati qua dietro questo bisogna dirlo però è veramente complicato senti se si sporca si lava perché altrimenti che senso ha averlo fatto se poi non te lo guardi non te lo sfrutti non te lo usi che senso ha è chiaro che non lo metterei mai se i bambini stanno mangiando qui o giocando con i pennarelli per carità però non me lo tengo manco in un cassetto cioè se li faccio devo averli tutti fuori e insomma signori altrimenti che cavolo l'abbiamo fatta fare cosa ho fatto scusate ho toccato qualcosa che non dovevo toccare Angela bello complimenti non sono brava con ago e cotone no guarda io non so manco attaccare un bottone ripeto non ho mai cucito in vita mia tutte le volte che ho provato sai quando avete tipo un buco un'apertura tuttora non saprei come fare devo dire la verità forse un pochino di più me lo potrei immaginare ma io non sono c'è proprio avete presente negata a livello sotto zero io quindi si può fare ecco anche perché semplicemente devi seguire un ritmo veramente è laborioso può essere complicato all'inizio sicuramente perché se non sai manco da dove devi iniziare tutto sembra complicato però no 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 Silvana modesta manco per sogno ti assicuro il mio è quello più così un po' derelitto Francesca dice il mio colore preferito è il blu ho un sacco di blu è il marinario in casa vedi il borda scusate io sto recuperando messaggi di qualche minuto fa anche perché mi sa che sono arrivati pure in ritardo esatto la prima lezione mi ha preso così male e questa cosa nonostante ci sia passata sopra poi evidentemente me la sono portata ad ogni step successivo ogni volta che dovevo imparare qualcosa e sembrava che dovessi impararlo alla velocità della luce me la sono portata dietro e pensavo di non volerne anche continuare esatto io e il cucito viaggiamo su due strade diverse sia a mano che a macchina non so manco come sia fatta una macchina da cucire cioè proprio non boh zero Francesca benvenuta fanne un quadro sotto te casi ci manca quello ciao Kate quante ore ci ho messo non è quantificabile non è quantificabile perché ci sono tantissimi giorni in cui io non ho fatto assolutamente niente e ho fatto magari delle full immersion di diverse ore non non te lo saprei dire facendolo io penso che cucendo un paio d'ore tutti i giorni in due settimane probabilmente sapendo però come procede cioè avendo ben chiari i passi successivi da fare noi ovviamente aspettavamo la lezione successiva per capire cosa dovessimo fare poi io non è che abbia il tempo tutti i giorni ma manco mi ricordavo mi ricordavo sempre un pochino tra lunedì e martedì avendo la lezione il mercoledì e poi ho passato due weekend forse due giorni di un weekend a cucire 12 ore al giorno con le pause di una giornata normale chiaramente tanto comunque ciao sabrina dice vabbè non viene mai nessuno oggi il mondo giusto così non ti preoccupare nulla che non si possa recuperare o anche no poi di cosa possiamo parlare di cosa possiamo non lo so avete qualche domanda sul viaggio mi diceva prima Eleonora forse della partita dell'NBA che abbiamo visto a Cleveland ora io vi dico quando mio marito mi ha detto quando abbiamo prenotato sì Francesca a 12 ore però ripeto in una giornata normale con mamma la noia pipì fame pranzo togli parecchia cena fai eccetera eccetera però sì ci ho passato tutto il giorno con le cuffie quindi mi estraniamo dal mondo con i miei audiolibri l'ho fatto volentieri ecco tutte le volte in cui mi sono messa a fare più di un tot l'ho fatto comunque mi sono messa a cucire anche se ho cucito 20 minuti l'ho fatto volentieri devo dire che la parte più impegnativa ma forse perché ho cucito troppo a lungo è stato fare questa parte frontale in particolare cucire non so avevo per esempio fate conto di avere questo pronto questo quadratone grande pronto e poi dover cucire questa è la parte più facile e poi devi cucire tutto questo e lo devi attaccare qua tutto questo lo devi attaccare qua le parti più difficili sono ma ho capito anche che errori ho fatto perché ho lasciato troppo lembo di tessuto libero quando ci sono più tessuti che si incontrano e quindi tu devi cucire più tessuti che si incontrano insieme qui ce ne qua ce ne sono due qui lo stesso qui lo stesso quando hai delle quando hai uno spessore perché all'interno è pieno di angolini no? dei tessuti che fanno angolino perché tu hai bisogno di uno spazio per muoverti è lì che devi fare ogni volta il doppio punto e non devi mai incrociare le alette quella è la parte più complicata il resto è più lineare magari lungo perché lo fai a mano però lineare comunque dicevo mi ha stupito moltissimo la partita di NBA io non sono amante dello sport da andare a vedere non che per farlo che a farlo sia proprio no però non so questa cosa di andare a vedere lo sport mi ha sempre un po' gni cioè non mi ha interessato particolarmente quando mio marito mi ha detto senti visto che stiamo progettando lo spring break lì da quelle parti sapi che tutte le città in cui andiamo sono città da partita di NBA io assolutamente voglio vedere una partita di NBA va bene caro gli ho detto io non è un problema ciao Silvana un bacione sì anche noi chiudiamo tra un po' io ho detto va bene per carità cerca trova così in base abbiamo prima cercato la città in cui la partita costasse un po' meno perché a seconda dei giorni della tipologia di partita c'erano dei prezzi alti e quindi in base a quello abbiamo poi come dire costruito la nostra tappa le nostre tappe di andate e ritorno abbiamo scelto Cleveland quindi per una questione economica tra l'altro era anche una bella partita non mi ricordo se i semifinali o delle qualificazioni per le finale non mi chiedete non ne so assolutamente niente però insomma era una bella partita e mi ha detto vedrai che vedrai che ti piacerà vedrai che sarà un bello spettacolo e io boh ma le palle già pensavo a come dover intrattenere i bambini la noia le cose eccetera eccetera e poi ovviamente questi biglietti che abbiamo preso non eravamo in piccionaia perché cioè è un costo notevole tra l'altro i bambini pagano ovviamente dappertutto e quindi insomma erano dei costi da affrontare per una cosa per me non particolarmente piacevole quindi sotto vabbè su va benissimo la realtà invece che mi ha colpito è stata è stata meravigliosa perché lo stadio è una roba futuristica per le poche cose e i biglietti li abbiamo senti mi pare che li abbiamo pagati intorno ai 38 dollari l'uno più ci metti le tasse una cosa del genere per 4 insomma i bambini hanno pagato meno? mi pare di no mi pare di no è raro trovare ci sono ovviamente dappertutto siccome non li ho fatti io i biglietti non ti so dire se ci fosse una riduzione di bambino ci sono di solito come nei musei ma la riduzione è veramente di poco veramente di una manciatina di dollari cioè veramente poca però non ti so dire esattamente non ti so dire può essere ripeto che ci fossero delle riduzioni ma sicuramente molto poco lo stadio una struttura pazzesca l'organizzazione altrettanto all'interno dello stadio vabbè i controlli stadio al chiuso naturalmente i controlli metal detector eccetera che secondo me da noi avrebbero creato delle code lunghe lì in un attimo in un attimo fanno tutto poi all'entrata ci hanno subito regalato degli omaggi c'è tutta la parte del piano del piano dove entri del piano terra dedicata anche ogni piano in realtà dedicata al cibo e bevande quindi tu puoi mangiare prendere qualsiasi cosa con più scelte ci sono veramente tante tante scelte cibo da stadio non vi aspettate le linguine con le vongole però chiaramente però ci sono tanti posti anche adatti a smaltire la fila perché è uno stadio veramente enorme dove dentro ci sono migliaia di persone quindi veramente tanto ogni piano perché a seconda di dove devi andare tu del livello dove devi andare tu devi salire un piano o scendere è organizzato alla perfezione quindi non è che noi che stiamo in piccionaia siamo trattati peggio di chi ha i posti in platea o davanti al campo assolutamente no anche noi su al tot piano non mi ricordo forse il terzo non mi ricordo nel nostro piano abbiamo le stesse cose quindi bello organizzazioni ovunque tante persone anche grandi di età che facevano il servizio di sicurezza il controllo dei biglietti quando arrivi si assicurano ovviamente siccome gli ingressi alle mamma mia sto vento siccome gli ingressi al tuo piano diciamo dove hai tu i tuoi posti sono liberi c'è semplicemente un arco c'è sempre una persona che controlla se è sicura che tu abbia il biglietto per quel posto altrimenti lì ovviamente non puoi entrare fa piacere quindi vedere anche persone grandi fare questo tipo di lavoro e lo spettacolo è stato meraviglioso meraviglioso spettacoli prima durante dopo no dopo no però nelle pause tantissimi artisti sicuramente scuole di ballo che facevano le loro esibizioni quello che mi ha colpito di più è che secondo me non c'è molto fair play perché c'è un grandissimo ovviamente noi eravamo nello stadio dei Cavaliers Cleveland Cavaliers quindi della squadra locale ovviamente quindi tu ti immagini ovviamente che il tifo maggiore sia destinato alla squadra locale come è ovvio che sia c'è un presentatore c'è un host di questa serata quindi uno che presenta che trattiene eccetera eccetera che ti invita anche a come dire a dire le cose brutte all'altra squadra a fischiare a cercare di distrarli e questa cosa mi ha colpito non mi è piaciuta moltissimo nel senso che ti diverti a farlo sì però mi dispiaceva per gli altri giocatori che chiaramente non sentiranno neanche quando sono lì perché saranno tutti concentrati tra l'altro i Philadelphia l'altra squadra ha vinto di poco ma ha vinto hanno giocato benissimo però è brutto poi ci sono le telecamere quindi tu se vuoi puoi aprire puoi inquadrare un QR code filmarti quindi loro random possono scegliere di inquadrarti non so c'è il momento del bacio c'è il momento del ballo c'è il momento di fare quello che fanno le mascotte è stato uno spettacolo bellissimo la partita si vede benissimo anche dall'alto alto alto dalla piccionaia quindi non rischi di perderti nulla bello che vi devo dire bello allora fatemi recuperare un po' vi saluto e poi vi saluto perché ormai si è fatta un'ora vado a pranzare anch'io perché è tardi durante le varie tappe del viaggio chiede Maria ti sei ritagliata dei momenti tuoi oppure no no momenti miei non non ce ne sono stati purtroppo abbiamo perso l'occasione di fare alcune cose perché ahimè abbiamo trovato tutto tranne che il tempo primaverile però andando da quelle parti era abbastanza normale io l'ho sempre pensato e quindi alcuni posti non li abbiamo visti alcune cose non li abbiamo viste come avremmo voluto però è stato molto bello lo stesso ciao annunziata benvenuta pensavo comunque fosse molto di più e si dipende dalle partite dipende dalle città ecco perché abbiamo scelto Cleveland anche per quello e dipende appunto dalla tipologia di partita che c'è e dipende da tanti fattori e sicuramente anche da dove ti siedi ecco ciao santa un bacione grande oh no alla febbre va bene allora io vi saluto grazie per essere stati qui anche oggi ci vediamo in live non so se settimana prossima riuscirò eventualmente ve lo comunico e ve lo comunico sia su instagram che con un post su youtube come alcune di voi mi hanno chiesto e cerchiamo di programmarla in anticipo ma lo sapete può essere che succede anche all'improvviso perché dipende dai giorni e nei prossimi video vedrete ho già pronto un video spesa e un video in cui iniziamo a parlare del mio compleanno che sarà la settimana prossima i miei 40 sto organizzando una festa quindi vi farò vedere anche le cose che sto comprando per questa festa e poi se riesco faccio un piccolo vlog di preparazione nel corso dei giorni come ho fatto per Ele quindi piccolo sarà 16 ore di video va bene un bacio grande e ci vediamo al prossimo video ciao e ora devo ricordarmi come si chiude giusto? grazie a tutti Grazie.